Io penso di sì perché al di là delle politiche, al di là della cultura politica, che spesso è più arretrata, io non a caso prima citavo il caso dell'Imu, fra una casa costruita bene e una casa costruita male passa una bolletta da 1500 euro, almeno. L'Imu sulla prima casa nel 2012 valeva 235 euro. Cos'è più importante? Dimezzare quella bolletta oppure abbattere quei 235 euro? E per dimezzare quella bolletta c'è tanto lavoro, c'è tanta economia, c'è meno inquinamento e meno consumo di energia. C'è una maniera diversa con cui bisogna guardare la nostra economia, perché in realtà l'Italia è un paese molto forte in tanti campi quando fa l'Italia, cioè quando incrocia la sua capacità di produrre cose belle all'ombra dei campanili, diceva Cipolla, con l'innovazione, con la tecnologia, con la green economy.